Ciao a tutti e benvenuti in Dolcezza e Magia. Oggi vi faccio vedere come realizzo una torta inglese. Una torta inglese è molto popolare nel periodo delle feste natalizie, la plum cake. Anche se le feste, diciamo, oramai sono sul finire, ancora sono in tempo. Purtroppo quest'anno è stato, diciamo, un Natale un po' movimentato. Dunque, questa plum cake è una torta a base di frutta secca e frutta disidratata, principalmente uvetta sia bianca che nera, datteri e poi la frutta secca che preferiamo. Io ho utilizzato gli anacardi e le noci. Questa frutta secca e questa frutta disidratata verrà poi ammollata nel succo d'arancia appena spremuto, lasciata riposare, così assorbirà tutto il succo d'arancia e poi mescolata al resto degli ingredienti, ovvero la farina con gli agenti lievitanti e le spezie di Natale, tra cui il cardamomo, la cannella e la noce moscata. Anche se in realtà, ammetto che io il cardamomo non lo userò, perché non sono molto amante del cardamomo. L'ho provato due anni fa e devo dire che non mi è piaciuto il profumo e non mi è piaciuto il sapore che ha dato al dolce, quindi io non lo utilizzerò. Per questa ricetta, invece, utilizzerò un ingrediente speciale, un ingrediente che non avevo mai utilizzato e che mi è stato regalato da mia cugina quest'estate quando è venuta a trovarmi. È uno zucchero di canna non raffinato in un unico pezzo, si chiama jaggery. Aspetta che ve lo faccio vedere. Il jaggery è questo. Zucchero di canna grezzo, duro, che poi andrà sciolto con l'acqua e utilizzato appunto come dolcificante. Allora, io penso che questo prodotto si possa trovare sicuramente online, su Amazon e nei vari negozi biologici online, oppure nella nostra zona sicuramente Natura si lo vende o anche nei negozi etnici. Ma se non vogliamo utilizzarlo e comunque vogliamo realizzare questa clam cake buonissima, possiamo semplicemente sostituirlo con lo zucchero di canna umido, quello muscovado, e sempre mescolarlo con l'acqua e utilizzarlo come dolcificante. Bene, adesso passiamo alla preparazione del dolce. Bene, adesso passiamo a preparazione del dolce. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.